Un'altra domanda che mi hanno fatto spesso è se hai riuscito poi a fare tutto quello che ti eri immaginato, ti eri prefissato per Plan My Trip? La risposta è no. Io sono chiaramente, ho iniziato questo percorso, questo viaggio, questo progetto con un'idea in testa di quello che avrei voluto e potuto fare durante tutto il tragitto. Ed effettivamente quando mi sono misurato con i miei limiti ho capito che tutto quello che io avevo un po' fantasticato non era possibile farlo. Al di là di quello che è la votazione, di quello che è il far scegliere una città da voi, quella è stata la parte più divertente, più fani ed era forse quando la raccontavo era la parte più simpatica. La gente mi guardava così, con gli occhi mi sgranava e diceva che sei impazzito, non sai dove andrai domani. Incontravo gente magari la sera prima di partire quando c'era la votazione che stava per scadere. Ma domani dove vai? Non lo so, fino a mezzanotte non lo so. Sto aspettando mezzanotte di sapere dove vado, perché c'è la votazione aperta e finché non scrivo la votazione non posso né prenotare né andare. Quindi questa qui era sicuramente la parte un po' più eccitante, più bella, più divertente. La parte più difficoltosa è che sicuramente volevo essere più presente sui social, volevo mettere contenuti più belli, creare delle storie o comunque anche dei piccoli video durante tutto il viaggio e non sono minimamente riuscito a farlo. Le poche volte che ho approcciato l'idea di mettermi lì con il mio tablet a fare qualcosa, ero talmente distrutto che sono crollato. Questo perché mi sono dovuto misurare con un qualcosa che non avevo previsto, la stanchezza. Non era una cosa che potevo prevedere perché, ripeto, non avevo esperienza di un viaggio così lungo in solitaria dove dovevo affrontare comunque tutta una serie di step precisi. Cioè la volontà di voler comunicare attraverso i canali social, quindi i due canali di Instagram, il Facebook, rispondere alle domande, rispondere a tutti i commenti che venivano fatti, quindi interagire con la gente. Allo stesso tempo dovevo gestire la mia presenza all'interno delle città, quindi fare quello che ero andato lì a fare. Quindi delle belle foto per me e per voi, insomma. Quindi c'era tutta una serie di cose. Allo stesso tempo dovevo organizzare il viaggio quando era il momento di viaggiare, dovevo smontare e rimontare le valigie, dovevo far sì che tutto filasse liscio. Tutto questo ha comportato che il tempo di media esposizione non bastasse. Per di più la stanchezza che accumulavo durante i viaggi con il caldo devastante che ho trovato ha giocato un ruolo fondamentale perché avevo dei tempi di recupero finite le 2-3 ore di viaggio che erano lunghissimi, cioè per 2-3 ore di viaggio io rimanevo imbambolato un'ora e mezza, due a volte. Ok, la sfruttavo spesso per postare, per sistemare le fotine, per selezionarle, per scaricare le varie camere, però ero comunque rallentato. Mi rendevo conto che ero rallentato perché viaggiare con 40 gradi in testa perché i primi giorni ho viaggiato con queste temperature 38 gradi nell'aria che si mischiano con 45 gradi dell'asfalto ed ecco che hai un mix diabolico di calore addosso. Non ero attrezzato soprattutto per poter andare a quelle temperature perché avevo una giacca in pelle quando sono partito e quindi questa tratteneva veramente tanto caldo, non avevo un casco jet da poter aprire, quindi da poter prendere un po' d'aria e tutto questo è stata comunque una prova, è stata comunque tanta esperienza, ha fatto sì che io arrivassi in fondo i primi giorni, le prime settimane di tappe che ero veramente demolito e questo ha rallentato un po' il tutto. Mi sono reso conto che un aiuto da casa, come si suol dire, per le prossime volte sicuramente è fondamentale. Una persona che ti segue, tutto quello che è l'aiuto sui social, il post e tutto quanto è fondamentale perché gestire tutto da solo, non sono un ragazzino di 20 anni che oggi viaggiano così con i pollicioni al vento, sono comunque un 41enne che sta facendo un viaggio, che si vuole anche godere il viaggio, che comunque non è in aereo o che ne so, è in moto con tutto quello che ne concerne. Quindi devo dire che è stata un'esperienza costruttiva sicuramente, ho visto quelli che sono i miei limiti che all'inizio non potevo immaginarmeli perché non trovandomi nella situazione non sapevo come avrei reagito.